Un drammatico incendio ha scosso la città di Locri portando alla tragedia la morte di un'anziana donna. L'incendio è divampato in un appartamento situato al quarto piano di un condominio in via Marconi, una delle vie centrali della città, vicina alla strada statale 106. La donna, allettata e impossibilitata a muoversi, è stata trovata carbonizzata nel suo letto dai vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, intervenuti tempestivamente sul luogo. Nonostante la rapidità dell'intervento, le fiamme hanno avvolto velocemente interamente l'appartamento, rendendo impossibile salvare la vittima. L'incendio ha causato panico tra i residenti del condominio, molti dei quali sono stati evacuati durante le operazioni di soccorso. La struttura del palazzo non ha riportato danni, ma l'appartamento della donna è stato completamente devastato dal fuoco. Le autorità competenti hanno avviato le indagini per rastabilire le cause del ruolo. Per stabilire le cause del ruolo, che al momento rimangono ignote. L'intera comunità di Locri è stata profondamente colpita dalla tragedia e si stringe attorno ai familiari della donna, ricordata da molti come una persona tranquilla e benvoluta nel quartiere. Grazie. Grazie.